stai ciao benissimo max benissimo e molto eccitato per questa nuova avventura insieme fantastico e anche i risultati acclamano questa nostra nuova avventura allora andrea prima di tutto per chi fosse per la prima volta a vedere uno dei nostri track record sulle cripto questo account perché è reale e non è un demo è reale per il semplice motivo che la piattaforma di binance non accetta conti demo accetta solamente conti reali e quindi è impossibile avere un conto demo su binance fantastico allora l'ultima volta ci siamo lasciati con un saldo più basso il saldo è salito e quota 37 489 l'altra volta abbiamo visto che il capitale investito era di 3650 euro e quindi siamo al mille e 27 per cento anche se spieghiamo una nota tecnica ai nostri telespettatori rispetto alla piattaforma per cui facciamo vedere anziché il profitto degli ultimi sette giorni con il customize tutto il periodo che si può vedere nel frattempo vedete in basso a destra che l'orologio della piattaforma scorre che stiamo aggiornando tutto è tutto vero non è finto è tutta la verità nient'altro che la verità signor giudice allora qui vedete che il cumulative pnl vi spieghiamo tecnicamente cioè il pnl indicato dalla piattaforma il profitto è il 952 quindi secondo la piattaforma un po di meno ma questo perché ci sono dei margini tecnicamente messi altrove per cui risulta sempre un po più basso ma il profitto sotto possiamo scrollare di 34.765 e allora spieghiamo tecnicamente che questa piattaforma che è comoda per il trading ma fa i conti un po alla cacchium ma aggiorna il profitto totale da quando abbiamo iniziato il track record a ieri quindi se io faccio 37.489 meno 34.765 dice che il nostro deposito sarebbe di 2007 anziché 3600 perché perché il profitto è calcolato a ieri e vabbè a questo punto svelato l'arcano di come si fanno i conti perché hanno complicato una cosa semplice veniamo a noi come è possibile che siamo saliti dal 916 di due giorni fa al 1072 beh ve lo posso spiegare semplicemente l'account è partito da 3.006 se io faccio il 10 per cento di 3.006 è 360 euro è un esempio se faccio adesso il 10 per cento di 37.000 è chiaro che approssimiamo a 36.000 se faccio il 10 per cento di una cifra dieci volte più grande faccio 3.600 euro che sarebbe il 100 per cento sul capitale iniziale lo so che la matematica è difficile per alcuni ma questi sono conti semplici della serva che sostanzialmente possono fare tutti quindi che cosa cambia cambia che se ogni volta avessimo prelevato i profitti oggi staremo ancora facendo trading con 3.600 erotti euro in realtà abbiamo capitalizzato i profitti cioè ogni volta sono stati reinvestiti e oggi si fa trading con 37.000 erotti quindi questo è il potere dell'interesse composto potere dell'interesse composto che ha trasformato un account alla portata di tutti con un account interessante su cui si può ottenere un risultato molto brillante infatti in alto a destra negli ultimi 30 giorni potete vedere che il pnl è superiore a 18.000 euro che come stipendio ragazzi è qualcosa di veramente eccezionale ma allora a questo punto passiamo brevemente la parola perché oggi saremo brevissimi al operativo del gruppo perché noi siamo in quattro e l'operativo del gruppo ha qualcosa da dirci rispetto all'operatività sulle cripto a te la parola ciao ciao a tutti allora io posso dire che ovviamente qua si parla anche di un conto abbastanza alto però posso dire proprio per esperienza che anche partendo da dei conti un po' più bassi ovviamente con delle precauzioni questo mondo ti permette di fare anche bei numeri grazie alla sua volatilità però di nuovo con le giuste precauzioni anche con attenzione si possono fare bei numeri si può anche pensare poi di fare anche solo questo e infatti abbiamo assistito a questo partendo da 3.006 e arrivando a 37.000 quindi insomma qualcosa che dà la possibilità a tutti di entrare in questo mondo il periodo di riferimento è circa nove mesi di operatività per cui insomma fate voi i conti ma allora passiamo la parola brevemente al tattico qui da san siro perché il tattico ci dirà quali sono le news della settimana che hanno interessato il mondo delle cripto e papà bitcoin a te tattico eccoci buongiorno a tutti e sì abbiamo visto un incremento di bitcoin negli ultimi giorni soprattutto a cavallo del weekend dovuto venerdì alla scadenza delle opzioni c'è un record in valore di oltre sei miliardi di opzioni in scadenza ed inoltre durante il weekend è stato annunciato da paypal il pagamento in bitcoin per il momento solamente negli stati uniti ma è comunque un segnale potentissimo per tutto il mercato delle criptovalute in quanto ampia la loro accettazione e valore a livello mondiale quindi dopo il grande annuncio del nostro amico della tesla elon musk che avrebbe accettato i bitcoin per pagare le macchine con l'acquisto da parte della società di un miliarde e mezzo bontà sua in bitcoin arriva l'annuncio di paypal fra l'altro strumento che io utilizzo moltissimo per le transazioni in compagnia bene questo brevissimo flash ci tenevo a farlo perché solamente due giorni fa celebravamo il novecento sedici per cento e vista la cifra tonda superiore al mille per cento in nove mesi mi sembrava giusto dar seguito e fare una replica a quel video io ringrazio il team delle cripto con cui stiamo lavorando in modo eccellente lo dicono i numeri e vediamo appuntamento alla prossima ciao tattico ciao operativo ciao andrea sconte ci vediamo sul mercato prestissimo alla prossima ciao a tutti ciao